Magnificata anima mea dominu Magnificata anima mea dominu Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato con nostra madre Maria Santissima Cari amici e cari fratelli del canale MaryTube, canale cristiano cattolico per diffondere amore, verità, pace Cari fratelli, siamo in un tempo di gravissima confusione e mai come oggi è importante ricordarci a vicenda la verità anche la verità sulla nostra vita spirituale così importante perché è l'unica dimensione che noi viviamo nel bene o nel male purtroppo ma questo dipende da noi, del resto che può farci veramente passare indenni attraverso questa tempesta spirituale una tempesta di zolfo e di pece, metaforicamente parlando oltre la quale purtroppo vi è l'abisso come nostra signora continuamente ci ripete ebbene la vita spirituale cristiana pone l'uomo al sicuro da questo che è il più grande pericolo che l'umanità oggi si trova di fronte un pericolo che c'è sempre stato ma mai mai come oggi al di là di ogni carestia, al di là di ogni guerra al di là di ogni asteroide, al di là di ogni cambiamento climatico vero o presunto che sia pericolo grave di cui il cielo ci sta avvertendo diciamocelo molto chiaramente è, cari amici, il rischio dell'inferno proprio quella realtà che sottilmente viene spesso negata perché come ci dicono i sacerdoti esorcisti la più grande strategia del demonio è quella di fare credere che non esiste la sua non esistenza, la non esistenza dell'inferno o anche se si ammettesse l'esistenza dell'inferno bisognerebbe dire e sperare che comunque sarebbe vuoto sarebbe vuoto sì perché Dio sarebbe così buono così misericordioso da privare addirittura l'uomo della sua libertà di poter anche voltare le spalle a Dio di rifiutare la salvezza, una bontà che priverebbe l'uomo della sua libertà ma evidentemente che tale ragionamento si contraddice da solo un amore che si impone e che non consente altre scelte ovviamente non sarebbe un vero amore quindi è bene credere al Vangelo è bene credere a quello che la Chiesa ha sempre insegnato nel passato ed è per questo cari amici che oggi vorrei parlarvi così in modo molto semplice così un po' in generale delle virtù ad esempio perché alcune virtù le chiamiamo cardinali perché quali sono le virtù morali quali sono, perché sono così essenziali per la nostra vita e allora prima di iniziare vorrei solo fare un piccolo passo indietro un piccolo passo indietro nell'Antico Testamento si fa per dire piccolo passo indietro insomma nell'Antico Testamento il Signore Dio Padre dopo aver dato i dieci comandamenti disse io prendo oggi come testimoni il cielo e la terra tutta la creazione prendo a testimonianza io posto davanti a te la vita e la morte la benedizione e la maledizione scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza amando il Signore tuo Dio obbedendo alla sua voce tenendoti unito a Lui Deuteronomio capitolo 30 versetti 19 e 20 quindi è molto chiara la posizione del Signore il Signore che ci ha donato i comandamenti pongo davanti a te la vita e la morte io pongo davanti a te il bene e il male ti ho creato libero ti ho amato ti ho creato libero questo è il bene e questo è il male abbi fiducia in me segui il bene e avrai la vita avrai la vita tua e tutta la tua discendenza sarai felice in eterno avrai ogni bene non ti mancherà nulla tieniti soltanto unito al tuo Dio che ti ama però il Signore ci dona la libertà anche se noi lo vogliamo di voltargli le spalle ecco la realtà tremenda dell'inferno e molto spesso l'uomo ci finisce perché viene sedotto dal demonio cade nelle sue reti nelle sue trappole nelle tentazioni e allora vedremo anche l'importanza della virtù della fortezza cari amici però voglio ribadire che il comando del Signore i comandi del Signore sono motivati da un amore folle nei nostri confronti e ogni volta che interpretiamo la scrittura al di fuori di questo amore immenso ci comportiamo come fanno le sette che interpretano la parola di Dio al loro piacimento stravolgendone il significato quindi andando a interpretarla fuori dall'autentico significato fuori dal significato con cui lo Spirito Santo ispirò i profeti e questo ce lo insegna l'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera al capitolo primo andate pure a leggere bene detto questo carissimi fratelli iscritti a questo canale MaryTube lo ripeto canale tradizionale cattolico che ama la tradizione che vuole amare e difendere la verità per la salvezza delle anime e che fra i suoi obiettivi è quello di trasmettere la pace verso tutti come dicevo e l'odio e la discriminazione ingiustificata verso nessuno verso nessuno e lo specifico perché siamo in un tempo molto complicato in cui così mi vien da dire molto a volte a volte le persone rimangono ferite le peggiori ferite te le becchi proprio a volte da chi si proclama credente e qualche volta ci si trova a constatare che persone che magari non si proclamano così credenti alla fine sembrano meglio di noi più rispettosi più caritatevoli e perché questo a volte ci torna alla mente la parabola del buon samaritano che era appunto un samaritano non era un sacerdote non era un fariseo non è che si sentisse oppure ci torna alla mente la parabola del pubblicano che si batteva al petto oppure quella dei due fratelli uno disse subito sì ma poi alla fine non obbedì al padre il secondo fratello invece disse di no inizialmente al padre ma poi alla fine si comportò compiacendo facendo la volontà del padre ora MaryTube il canale che io gestisco vuole presentare il Vangelo nella sua integrità senza dire questo sì oppure questo no e quindi cari amici voglio fare il possibile per fare amare la Sacra Scrittura e questo specialmente con l'opera dello Spirito e la Sposa che spero che ormai conosciate la tradizione cattolica e così ho fatto questa premessa affinché se questi miei sentimenti i miei valori sono anche i tuoi sentimenti i tuoi valori caro fratello sorella tu decida di iscriverti a questo canale MaryTube se vuoi anche allo Spirito e alla Sposa se vuoi veramente qualcosa di più e far parte di questa bella community crescere insieme con noi liberarti da tante angosce e paure che questo mondo e anche i falsi profeti ci mettono addosso e lasciare che la verità ci liberi il cuore e ci dia un po' di speranza un po' di fede un po' di gioia per affrontare bene questo tempo adesso inizio a parlarti delle virtù che ti voglio presentare molto brevemente così se poi desideri catechesi più approfondite sulla Sacra Scrittura sul Catechismo e molto altro ti invito a visitare il sito lospirituelasposa.com la porta adesso è aperta per poche ore ancora quindi ti consiglio di approfittarne non perdere questa opportunità unica e irripetibile mercoledì santo inizieremo un importante corso di quaresima incentrato sulla croce sul valore della sofferenza perché almeno una volta nella vita cari amici dobbiamo prendere coscienza della verità fino in fondo fino alle estreme conseguenze perché vogliamo farci santi alla fine e vogliamo conquistare la beata patria del cielo non siamo qui a raccontarci le barzellette e il tempo scade ed è prezioso bene vediamo adesso che cosa sono le virtù morali che cos'è la virtù morale è l'abito di fare il bene e la acquistiamo e la rafforziamo ogni volta che ripetiamo gli atti buoni le virtù che hanno per oggetto Dio che hanno per motivo Dio si chiamano teologali mentre quelle che hanno il compito di togliere gli ostacoli a fare il bene secondo i comandamenti di Dio sono le virtù morali nel battesimo cari amici ci sono state infuse le virtù teologali e le virtù morali però è solo ripetendo gli atti buoni è solo rafforzando questa nostra abitudine inclinazione a fare il bene che si formano sempre di più dentro di noi le buone abitudini diventano forti e si conquista la facilità di esercitare quindi la virtù come hanno fatto i santi abbiamo quindi ricevuto con il battesimo l'inclinazione a fare il bene purtroppo il peccato originale lo sappiamo ci ha lasciato una brutta inclinazione ma il battesimo oltre a toglierci la colpa ci ha donato una inclinazione a fare il bene però è ripetendo gli atti buoni che conquisteremo la facilità di esercitare poi questi atti buoni di fare il bene quindi di praticare opere sante quindi cos'è un grande errore che noi potremmo commettere sarebbe quello di credere di poter procedere per inerzia come se non fosse importante anche impegnarci sforzarci come se al termine della nostra vita l'anima scomparisse come se le anime si dissolvessero nell'etere nel nulla come qualche cattivo maestro negli anni scorsi ha anche osato dire predicare mentre la verità cari amici è che chi non si esercita chi non esercita la virtù praticando questi atti buoni non soltanto non acquista gli abiti morali virtuosi ma che cosa perde perde anche l'abito soprannaturale virtuoso infuso nel battesimo insieme alla grazia quindi chi non pratica il bene perde perde proprio il dono che è stato infuso nel battesimo lo perde sempre di più e così detto questo cari amici detta questa piccola introduzione vorrei citare le virtù morali una per una allora le principali sono la religione che ci fa rendere a Dio il culto divino che lui merita a cui lui che deve essere dato a lui e poi le virtù cardinali le quattro virtù cardinali che sono la prudenza la giustizia la fortezza e la temperanza queste quattro virtù cardinali sono le più importanti virtù morali perché ci fanno onesti nel vivere ci fanno vivere bene facendo il bene allora per capire quanto siano importanti ci basta pensare cari amici ai processi di beatificazione di canonizzazione in cui cosa fa la chiesa quando valuta se un cristiano è stato veramente un santo prima di tutto esamina se queste persone hanno esercitato in modo eroico prima di tutto le virtù teologali e poi le virtù cardinali la prudenza la giustizia la fortezza e la temperanza e questo ci dice quanto siano importanti queste virtù cardinali per la nostra vita cristiana se poi chiaramente non siamo interessati a farci santi e non ci interessa di entrare nella Gerusalemme celeste o se siamo ancora convinti di poter vivere come ci piace tanto alla fine l'inferno sarebbe vuoto bene allora si può anche cambiare canale non ascoltare quanto vi sto dicendo tanto lo sappiamo che oggi non ci si crede più sappiamo che la chiesa oggi preferisce rincorrere il mondo con piacere il mondo bla 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 eccetera eccetera a ognuno buon viaggio qualsiasi sia la destinazione finale ma noi oggi cari amici siamo qui perché vogliamo capire perché queste virtù siano così importanti addirittura vengono chiamate cardinali noi conosciamo i cardinali il cardinale è quello il cardinale è quello poi uno contro l'altro come disse nostra signora Adakita ma perché queste virtù sono dette cardinali perché i cardini sorreggono le porte ad esempio sorreggono le finestre e allo stesso modo le virtù cardinali sorreggono tutte le altre virtù morali che sono appunto appoggiate che fanno riferimento alle virtù cardinali la prudenza quindi è la virtù cari amici che ci dirige verso il bene che dirige i nostri atti verso il debito fine ci fa discernere ci fa usare i mezzi buoni ci fa scartare quelli meno buoni quelli che non è bene che noi utilizziamo che sfruttiamo la prudenza ci dà veramente il giusto metro di giudizio nel fare il bene e poi la virtù della giustizia la virtù della giustizia ci fa dare a ciascuno ciò che è giusto che lui abbia ciò che gli è dovuto pensiamo anche a Zaccheo quando incontrò il Signore io restituirò quattro volte tanto la fortezza ci fa affrontare senza paura e senza timidezza le difficoltà le sofferenze i pericoli anche addirittura la morte per il servizio di Dio per il prossimo per la salvezza anche della nostra anima ci fa affrontare senza paura senza timore tutte queste difficoltà tutti questi pericoli e poi la temperanza è la virtù che frena le passioni frena i desideri specialmente i desideri sensuali ci fa moderare ci aiuta a moderare l'uso dei beni sensibili a volte soprattutto in questa nostra epoca questo mondo ci porta verso un consumo sfrenato verso un abuso dei beni sensibili dei beni materiali quindi abbiamo bisogno anche di questa virtù e al contrario delle virtù ovviamente rischiamo di cadere all'opposto nei vizi che mentre le virtù sono abitudini a fare il bene i vizi sono abitudini a fare il male e come le virtù si rafforzano ripetendo atti buoni allo stesso modo i vizi sono abitudini a fare il male e si rafforzano ripetendo commettendo più volte atti cattivi fino ad aprire la porta al demonio e a forza di ripetere i vizi si può anche aprire in maniera grave la porta al male con tutte le conseguenze spirituali e poi si va dall'esorcista quindi cari amici si parla quindi in questo caso dei sette vizi capitali ma non mi soffermo adesso magari ve ne parlerò in un'altra occasione già li conoscete ma sono tutte riflessioni che ci aiutano ci ricordano la verità bene oggi vorrei rimanere sulle virtù e in modo particolare visto che ci avviciniamo alla quaresima la virtù della fortezza che poi riprenderò specialmente sullo spirito e la sposa parlando della sofferenza umana allora cari amici sono tante le difficoltà le sofferenze le avversità che incontriamo servendo Dio il prossimo e in questa nostra epoca sono veramente tante quotidiane e il rischio è che noi confidiamo solo nelle nostre forze senza renderci conto veramente di che cosa ci manca di che cosa abbiamo veramente bisogno e un altro rischio è di spaventarci per pericoli veri o addirittura immaginari siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale dei falsi profeti dei cattivi maestri e quanti falsi allarmi quante paure infondate ci vengono buttate addosso anche attraverso i telegiornali programmi televisivi tutta una serie di cose che ci angosciano quotidianamente basta accendere la televisione si finisce di guardare la televisione angosciati e quindi un altro rischio dico è spaventarsi per pericoli veri o immaginari fino a temere avere sempre costante paura di affrontare difficoltà e dimenticarsi che dobbiamo confidare nell'aiuto di Dio perché Dio ci dà il suo aiuto e noi a volte lo ripeto pensiamo solo di essere noi con le nostre forze quindi la virtù della fortezza ci fa superare sostanzialmente due grandi rischi la temerità e la timidezza senza la virtù della fortezza non è possibile salvarsi perché non è possibile superare le grandi tentazioni che il demonio ci muove e che da noi stessi cari amici a volte ci muoviamo con la nostra inclinazione verso il male che non contrastiamo abbastanza quindi senza la virtù della fortezza diventa difficile salvarsi e superare tentazioni difficoltà e questa battaglia spirituale che ci proviene dal demonio certamente come ci insegna il catechismo il vangelo ma ci proviene anche dal mondo e dal mondo che purtroppo oggi regna una grande apostasia cari amici è inutile basta guardare la televisione i festival tutto quanto e poi le nostre passioni corrotte quindi senza questa virtù non possiamo praticare nemmeno la penitenza quella mortificazione che tutti i santi hanno praticato e che noi veramente facciamo una grande fatica ma abbiamo bisogno della fortezza la fortezza tiene a freno le passioni che procedono dall'appetito irascibile ci fa resistere alle tentazioni ci fa vincere il rispetto umano ci fa addirittura affrontare le persecuzioni addirittura il martirio l'abbiamo visto con la vita dei santi che hanno affrontato il martirio sono diventati beati e santi sono andati incontro al martirio testimoniando la verità testimoniando Cristo facendo il bene in modo eroico ma come hanno fatto senza la fortezza la fortezza agisce in noi in un duplice modo sostanzialmente in maniera passiva o in maniera attiva vediamo in modo attivo quando è che agisce quando la virtù della fortezza ci fa affrontare quindi attivamente i pericoli e le varie difficoltà che la vita ci presenta e invece agisce in modo passivo quando ci fa sopportare con pazienza tutta una serie di situazioni in cui magari invece saremmo portati a reagire di petto saremmo portati a sbottare saremmo portati a scadere nell'ira a lamentarci senza fine a puntare il dito verso gli altri a diffamare il prossimo mentre invece il Signore ci dice di sopportare con pazienza questa è la via verso la santità questa è la via verso la salvezza cari amici questa è la via verso la salvezza e se siamo cristiani dobbiamo capirlo ecco perché dico questo canale vuole promuovere amore e odio verso nessuno l'odio no perché perché chi odia diventa immagine del nemico del demonio quindi cari amici la virtù della fortezza ci porta ad affrontare serenamente tutte le tribolazioni permesse da Dio per la nostra santificazione con pazienza ecco come agisce in maniera passiva in maniera attiva invece facendoci lanciare a capofitto nelle difficoltà con amore con gioia con fiducia nell'aiuto di Dio quindi ricordiamoci che Gesù ci disse innanzitutto voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma se persevererete chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo Matteo 10 22 quindi il Signore non dice voi sarete perseguitati andrete incontro a sofferenze e persecuzioni questa è la croce quindi sarete benedetti no di fronte a tutte queste cose chi avrà perseverato nella fiducia nella speranza nella fede nell'amore nella carità si salverà quindi le prove ci sono ma dipende poi come le affrontiamo con quali virtù le affrontiamo o se le affrontiamo carichi di vizi e allora la prova ci distrugge quindi cari amici umanamente ci rendiamo conto che non è assolutamente facile affrontare certe situazioni e che c'è bisogno delle virtù delle virtù della virtù della fortezza a partire da tutte le prove quotidiane di tutti i giorni che richiedono la nostra pazienza ora sulla piattaforma dello spirito e la sposa fra qualche giorno inizia la quaresima inizieremo una lunga importante riflessione sulla sofferenza umana sulla croce anche sulla virtù della fortezza in modo particolare per vivere nel modo più santo è possibile questo tempo e tutte le avversità che questo tempo ci comporta quindi vi aspetto sulla piattaforma lo spirito e la sposa detto questo caro fratello sorella ti auguro veramente di cuore un buon cammino di quaresima di confidare sempre di più nel Signore sempre di meno sulle tue forze di arricchirti delle sante virtù e di rafforzarle dentro di te e quindi ti auguro questo ogni bene nel Signore Gesù che ci ama veramente di infinito amore con Lui sempre avanti senza paura un grande abbraccio da Fabio Maria e sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato con Nostra Madre Maria Santissima e alla prossima spero con tutto il cuore che questo video ti sia piaciuto MaryTube pubblica video interessanti e utili per il tuo cammino perché la tua vita diventi migliore caro fratello sorella se vuoi qualcosa di più visita anche il sito lospiritoellasposa.com guarda anche gli altri video che ho caricato e se desideri che io ti mandi una notifica e ti avvisi quando caricherò altri video iscriviti al canale e attiva la campanella e io ti avviserò quando caricherò il prossimo video ti aspetto ma guai se tutti diranno bene di voi così facevano con i falsi profeti e io ti avvisi e io ti avvisi